Saluto e poi dà la parola al Presidente. Confcommercio Marche Nord celebra il quarantesimo compleanno dei weekend gastronomici della provincia di Pesaro Urbino e presenta l'edizione autunnale delle guide per un viaggio gastronomico nel territorio tra storia, arte e natura. Quarant'anni sono un grande successo per la Confcommercio che quarant'anni fa decise che era ora di puntare a qualificare la ristorazione dell'entroterra perché appunto i weekend gastronomici riguardano l'entroterra della provincia di Pesaro Urbino. Sono circa 12.000 le prenotazioni nei ristoranti in occasione dei weekend autunnali. Tradizionalmente appunto la manifestazione si svolge in un'edizione primaverile e l'edizione autunnale. Il quarantesimo anno gode anche del patrocinio dell'Agenzia Nazionale del Turismo, l'ENIT, del Consorzio del Prosciutto di Carpegna. Dopo una delle eccellenze assolute dell'enogastronomia del nostro paese. L'edizione autunnale dei weekend gastronomici inizierà sabato 16 settembre e terminerà domenica 3 dicembre. L'obiettivo è promuovere la cucina dei preziosi borghi dell'entroterra coinvolgendo ben 48 ristoranti distribuiti in 29 località e far scoprire inoltre le bellezze del territorio. Mi piace ricordare che i due punti di forza di questa manifestazione sono intanto menu molto importanti a base di prodotti del territorio e l'obbligo di vino della provincia di Pesaro Urbino ad un prezzo assolutamente promozionale. perché il massimo è 29 euro ma con due piatti a base di tartufo, quindi è un prezzo che non si giustifica con la qualità dell'offerta e dei menu che vengono proposti. L'altro aspetto positivo della manifestazione è che ha saputo in 40 anni far conoscere tanti borghi, tanti paesi del nostro entroterra, paesi che normalmente erano al di fuori dei circuiti turistici e che oggi invece sono meta di vacanzieri, di visitatori e di turisti tutto l'anno. Quindi è una manifestazione sì enogastronomica ma che ha anche un alto valore per il turismo del nostro entroterra. Viatico dei weekend gastronomici l'ormai celebre libretto menu oggetto di collezione con le date e ristoranti aderenti e cenni sulle località. Presenti, chiari e invitanti, i vari menu proposti, tutti diversi tra loro a un prezzo più che conveniente. È possibile consultare la guida dei weekend gastronomici sul sito di Confcommercio Marche Nord. L'iniziativa, giunta alla quarantesima edizione, offre anche un aiuto concreto al mondo della ristorazione. Lo conferma il presidente di Confcommercio Marche Nord, Angelo Serra. Certo, questo evento è modo per Confcommercio di aiutare i suoi associati, stagli vicini in momenti di crisi profonda che direi che peggio di così siamo veramente in una crisi senza precedenti perché la gente, e si vede benissimo, non ha più soldi. Vediamo anche i stessi turisti che una volta magari facevano i suoi dieci giorni, oggi ne fan tre, quattro perché non hanno proprio più le possibilità di fare una vacanza lunga.